Un minuto con Padre Pio dei luoghi del convento di San Giovanni Rotondo, della chiesetta antica. Siamo dinanzi all'altare di San Francesco, uno dei luoghi in cui Padre Pio celebrava l'Eucarestia. Ecco, in questi luoghi della chiesetta antica come l'altare dell'Immacolata e l'altare maggiore della chiesetta di Santa Maria delle Grazie, in luoghi dove Padre Pio celebrava l'Eucarestia. Qui per raccontarvi quello che accadde in una giornata di novembre, non conosciamo la data esatta, qualcuno parla proprio di questa giornata. Quindi oggi vogliamo raccontarvi quello che accadde ad un conte, il conte Luigi Cadorna. Ma andiamo un po' indietro nel tempo. 24 ottobre del 1917, piena prima guerra mondiale, l'inizio di una battaglia che passò alla storia come la più grande disfatta dell'esercito italiano. Quindi parliamo della cosiddetta battaglia di Caporetto che durò circa 19 giorni, terminò pensate un po' il 12 di novembre dal 27 ottobre. Una battaglia che portò delle conseguenze disastrose, 11.600 morti, 30.000 feriti, 265.000 soldati che vennero imprigionati. Un disastro. Il conte Luigi Cadorna era il generale a capo delle truppe italiane, venne subito additato come il responsabile di questa grande disfatta. E venne subito sostituito dal generale Diaz. Cadorna era a Treviso una notte di novembre, palazzo Zara. Preso da un momento di sconforto, scrisse le sue ultime volontà, prese la riportella e stava per suicidarsi. Quando ad un certo punto vide nella sua stanza, entrò nella sua stanza, un frate con la barba e con le mani insanguinate. Una piccola conversazione, giusto il tempo di prendere questa rivolterla e riposizionarla sulla sua scrivania. E non andare avanti in quel gesto insano. Qualche giorno dopo Cadorna legge sul giornale che qui a San Giovanni Rotondo viveva un frate cappuccino stigmatizzato che faceva miracoli e convertiva le persone e confessava anche tanta gente. Subito Cadorna si mette in automobile e scende a San Giovanni Rotondo, siamo nel 1920, però quindi tre anni più tardi. Vuole conoscere questo frate perché lui pensa che sia proprio lui. La cosa clamorosa è che nel momento in cui sta per entrare in convento e si rivolge ai frati che lo accolgono, stranamente i frati e lo stesso padre Pio attendeva da tempo questo generale che doveva incontrare il santo cappuccino. Quando si incontrarono Cadorna disse a lui, il frate che era nella mia stanza quella notte di novembre del 1917 e padre Pio subito disse ai generale, quella notte l'abbiamo passata brutta. Grazie per la visione!